Gentile pubblico, Estoria 2019, quindicesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della RAI Friuli Venezia Giulia. Grazie inoltre al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. Il decoro floreale è a cura dell'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Brignoli di Gradisca, che ringraziamo per la collaborazione. Sta per iniziare l'incontro intitolato Scorci di Lessico Familiare. Intervengono Stefano Bartezzaghi ed Elvio Guagnini, coordina Alessandro Mezzena Lona. Incontro realizzato con il sostegno di AMGA Energia e Servizi e Era.com. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Scrivendo un messaggio via Whatsapp o Telegram al numero 33 11 68 29 69 è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Estoria che ci ha invitati, grazie al professor Stefano Bartezzaghi che è qui alla mia sinistra, al professor Elvio Guagnini. Manca, come potete vedere, abbiamo messo le borse per non sentirci soli, manca Sandra Petrignani che doveva essere qui con noi questa sera e che oltretutto avendo fatto un lavoro molto bello tra l'altro su Natalia Ginzburg, un lavoro di tipo biografico ma è un romanzo o biografia che si intitola Corsare ed è stato l'anno scorso anche tra i finalisti del premio Strega pubblicato da Neri Pozza, dovevamo partire da lì in quanto appunto i frammenti, le suggestioni di Lesico Familiare di cui parleremo questa sera ma non solo, dovevano appunto avere per voce principale Sandra Petrignani che purtroppo è stata trattenuta e quindi non sarà questa sera con noi. Allora io ho pensato che prima di dialogare con i nostri ospiti faremo un esercizio di evocazione, cioè evocheremo la voce Natalia Ginzburg perché credo sia necessario partire da lì, in uno dei passaggi più belli del suo Lesico Familiare, che è il romanzo che l'ha resa famosa, insomma che è stato vendutissimo, anche criticatissimo come poi sentiremo dai nostri ospiti, ma che vale la pena appunto sentire dalla voce viva di Natalia Ginzburg proprio per rendersi conto quanta forza avranno le parole in questo libro e quanta forza avranno le parole diciamo non ufficiali, cioè le parole di una famiglia, le parole in qualche modo inventate che fanno patrimonio del patrimonio linguistico che ognuno di noi si porta dietro dall'infanzia. Noi siamo cinque fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola, basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche sentite ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire non siamo venuti a Bergamo per fare campagna o ma de cosa spussa all'acido solfidrico per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta tra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono i comi geroglifici degli egiziani e degli assiro babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque e dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e risuscitando nei posti più diversi della terra quando uno di noi dirà egregio signor Lipman e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre. Finitela con questa storia, l'ho sentita già tante di quelle volte. Ecco questo è il passaggio che vi volevo leggere di l'essico familiare perché è da qui che secondo me dobbiamo partire. L'essico familiare è il, se non ricordo male, quinto romanzo che Natalia Ginzburg pubblica con Einaudi e prima di pubblicarlo e prima di scriverlo la scrittrice si fa cogliere da un sacco di dubbi perché viene da un ambiente di intellettuali, viene da un ambiente, da una famiglia dove il padre docente di anatomia era una persona molto severa, non tollerava diciamo le esternazioni, penso che oggi sarebbe morto di infarto nel giro di pochi minuti, era un uomo molto riservato a cui non piaceva assolutamente apparire, trovava molto volgare il mettersi in piazza. Per cui quando Natalia Ginzburg porta dentro di sé questo romanzo si chiede molte volte se sia giusto che lei scriva della sua famiglia, perché soprattutto la famiglia più che lei la protagonista di questo libro, ma soprattutto si chiede se sia giusto raccontare delle storie che lei considera molto banali, perché sono delle storie che fanno parte del suo vissuto, di un vissuto di una famiglia molto particolare, di una famiglia tra l'altro di origine del papà era di origine triestina, con un linguaggio portato anche dalla triestinità, perché per esempio la parola sbrodighezzi, se uno non è di queste zone non capisce che cosa significa, o lo stesso chiamare il grembiule il grembiale per dire, ma ce ne sono tante altre, ci sono frasi anche che il padre inventa come la negrigura, cioè per lui quando una persona è volgare, quando una persona, quello che lui diceva, siete dei pagliacci, quando loro sbagliavano qualcosa, appunto entrava nella sfera della negrigura, cioè in quello che lui disprezzava profondamente. C'è una grandissima, Natalia Ginzo fa una grandissima difficoltà a convincersi a scrivere questo libro, perché le sembra un libro, e qui arrivo al libro più recente del professor Stefano Bartezzaghi, che insegna alla Iulm di Milano, lo conoscete tutti, scrive su Repubblica, dirige un bellissimo festival a Livorno. Il suo libro più nuovo, quello che è uscito da Bonpiani, si intitola Banalità, e adesso appunto gli chiederò proprio questo. Natalia Ginzburg aveva il terrore di scadere nella banalità, in realtà poi ci si rende conto che questo libro, pur raccontando delle storie molto familiari, molto private, molto anche quotidiane se vogliamo, è di un'altezza siderale, di un'altezza che ancora oggi lascia bocca aperta. Ecco, volevo chiederle, noi possiamo fare un ponte tra la paura di Natalia Ginzburg di scadere nella banalità e la paura che abbiamo oggi della banalità, ma che in realtà ci sta travolgendo in qualche modo. anche l'asserita paura dell'autrice lessico familiare di essere banale, in realtà lei ha molto flirtato nello scrivere con moduli di lingua per niente letteraria, cioè si metteva sotto il cano letterario dell'epoca e anche flirtato secondo me con una idea di banalità, raccontando le storie di una famiglia che presentava, che aveva dei caratteri, poi si dice che nessuno sia normale visto da vicino, dei caratteri chiaramente eccezionali, ma che per altri versi faceva appunto una vita molto modesta negli alloggi, negli arredi, anche in paragone a altre famiglie di cui lei parla, dice ma questi facevano delle cose molto eccezionali rispetto a noi, andiamo sempre in vacanza negli stessi posti, facciamo sempre le stesse cose e quindi non ha avuto nessuna paura di mostrare la propria famiglia come e anche nella disposizione degli episodi, certamente va contro tutte le regole di quello che oggi chiamiamo, scusate la parola volgare, storytelling, nel senso che quando c'è una cosa che importa lei non la racconta, no? Cioè quella discussione di Leone e Ginzburg, no? Di questo giovane che conoscevano, che faceva questo, faceva l'altro, a un certo punto mentre sta parlando dice beh, poi ci siamo sposati con Leone, ma come vi siete sposati? non ho mai detto, il primo ba, non lo so, le cose saranno successe anche a quell'epoca, no, non intendeva fare quello, ecco, non intendeva assolutamente fare quello e peraltro quando si parla di appunto l'esordio che dice, in cui c'è il padre che dice non fate né grigure, insomma parte con delle parole inventate, il lessico familiare è un lessico che almeno in parte è inventato, in altra parte è deviato, è comunque usato in termini non consueti, per cui la famiglia si basa su un lessico che è anche un lessico che fa riconoscere con questa idea, tra l'altro un'idea quasi fantascientifica, no? La grotta, in una grotta tra milioni di persone, che grotta era quella grotta, no? Cioè come era fatta una grotta con milioni di persone? Chiaramente è una cosa che va sul metafisico, ci saremmo riconosciuti dall'uso di parole che identificavano soltanto noi. Questa è, mi pare, una chiave molto molto importante, nel senso che appunto, io poi che insomma mi occupo di letteratura un po' in maniera complementare alle mie normali attività e diciamo non sono uno specialista, però mi trovo in certe occasioni a dover parlare di scrittori, dicendo vedete, questo scrittore, no? Anche tramite le parole, non le parole dello scrittore, ma le parole che lo scrittore riferisce, si caratterizza, vedete qua come questo scrittore caratterizza un personaggio con le sue parole. Ed è imbarazzante la parola di lessico familiare perché è l'argomento, è la cosa che fa stare in piedi il libro questo. E quindi appunto non c'è bisogno che arrivi uno dalla IUM di Pilano a dirlo. È lì, basta leggere il libro e il libro lo leggono tutti. Anzi, io non escludo che questa mia inclinazione a vedere nel linguaggio diciamo una... venga proprio dal fatto di aver letto in età precoce lessico familiare, che è stata una delle mie prime, che io possa ricordare, le prime letture di libri non per ragazzi. Era il libro preferito di mio padre, che pensando appunto al ruolo che ha il padre lì dentro chiaramente c'è un tramite un po' particolare. E forse quel fatto di soffermarmi soprattutto su come parlano i personaggi, forse mi viene da lì l'amore per Proust, per esempio, di cui Gisburg è stata la traduttrice, la prima traduttrice del primo volume e che appunto sicuramente ha avuto un ruolo anche nel congegnare, ma che poi per lei era anche in realtà precedente. Lei dice io da bambina ho scritto questo dialogo in cui facevo entrare e uscire dei personaggi che parlavano come mio fratello, come mio padre, eccetera. Quindi aveva proprio questa tensione al raccontare quelle cose che nasceva da allora. E allora a me la cosa che interessa forse maggiormente è proprio questa, no? Cioè il rapporto con una memoria, lei a un certo punto in un testo… Allora, siamo nel 63. Nel 63 assieme all'essico familiare, senza fare paragoni con l'attuale… è anche scortese, insomma, siamo in un posto frequentato da scrittori con l'attuale stagione letteraria, però era uscito. Rienva di Tommaso Landolfi, lessico familiare, la cognizione del dolore, Libera Nosa Malo e Fratelli d'Italia di Arbasino e poi un fenoglio, insomma cose così. Per dire che cosa un lettore poteva trovare e per dire quanti di questi libri, si vede che c'era una temperie del tipo, legavano proprio un'identità al lessico. E lei dice, io ho sempre amato una certa poesia di Noventa, di Giacomo Noventa, che dice… io una volta ho sentito il franco-lituano Gray Mass fare una conferenza su Calvino e ha letto un racconto di Calvino. Spero di non rovinare Noventa, non sono veneto, quindi quanto lui non ha rovinato Calvino. e c'è questa poesia di Noventa che dice… Questa è un anagramma la prima strofa della seconda. Ritornano le stesse parole disposte in un modo diverso. Ero giù, c'erano le nuvole, non vedevo il cielo sereno, ho lasciato le valli e gli orti, sono salito sulle montagne, ho visto i cieli sereni, ma adesso non li vedo le valli e gli orti coperti dalle stesse nuvole nere. e Natalia Ginzburg usa questa cosa per spiegare la sua posizione di bambina che evidentemente aveva un empito verso la scrittura, capiva che erano importanti queste parole, questi ideali, queste stranezze, il baco del calo del malo che dicevano tra di loro. E quando… Tutto bene? Ma mi pare che il signore si muova. Forse possiamo andare avanti? Sì, che penso di sì. Quando arriva in quel… Cioè ha questa coscienza, evidentemente la sua montagna sono i mezzi espressivi, ma quando arrivano i mezzi espressivi quella cosa c'è ancora, quella cosa che c'è da raccontare, cosa ne è rimasto di questa cosa da raccontare? Questo è un tema che a me personalmente è carissimo, ci stanno dentro delle cose di Primo Levi, di Primo Levi lettore dell'ultimo del paradiso di Dante, ci sono delle cose che riguardano anche… è il tema molto segreto degli esercizi di stile di Ramon Quenot, è il tema del sogno, no? Il sognatore che ha una cosa da raccontare, che è la cosa che ha appena sognata, che è vivida nella sua mente, l'è appena successa, e però gli strumenti cognitivi, diciamo così, che gli servono per scriverla sono incompatibili con il ricordo, deve dimenticarselo, perché ora che accende la luce, prende la penna e scrive, non può che esserselo dimenticato il sogno. E questo è una specie appunto di dramma, che è il dramma dell'espressione. hai una cosa da dire, ma devi trovare appunto l'esercizio di stile che ti consentirà di dirla, e questo artificio ti farà allontanare. Mi pare che questa soluzione di un linguaggio che flerta con la banalità, un linguaggio non letterario, un linguaggio in cui lei dice a me mi piace, fa gli errori che allora si segnavano con la battita blu, è una soluzione di grandissimo facino, almeno insomma per tutta la prima parte del romanzo, è una cosa che appunto io sento che personalmente mi ha colpito molto. Poi mi imbarazzo di dire queste cose, perché qui invece c'è uno specialista che ne dirà di molto più fondati, immagino. Elvio Guagnini, penso che lo conoscete un po' tutti, è professore merito all'Università degli Studi Trieste, è stato maestro di letteratura italiana e di storia della critica di tantissimi di noi, ha scritto molti saggi, continua a girare il mondo, adesso ha una collaborazione in Argentina con delle università, con gli italianisti, è un personaggio che ha lasciato un segno forte sullo studio e sulla comprensione della letteratura italiana. A lui voglio chiedere questo, nel momento in cui esce Lessico Familiare è un successo in quel momento enorme, perché vende rapidamente centomila copie, in Audi è felicissimo, eppure è anche il momento però della neo-avanguardia, il momento in cui la critica operaista di Alberto Azorosa lo considera male. Due cose diverse. Assolutamente, una è una critica di un certo tipo e l'altra è una critica di un altro tipo. Volevo chiederti, secondo te, guardandolo da oggi, cioè da così lontano, c'è una punta di ragione in quelli che accusavano la Ginzburg di aver scritto un romanzo tutto sommato borghese? Era un romanzo borghese, ma del resto la borghesia è l'ambiente in cui si muove anche Natalia Ginzburg, esploratrice anche. Difatti non a caso anni dopo scriverà un libro intitolato Famiglia, non a caso siamo sempre nel tema della famiglia, che ha due grandi capitoli, uno è famiglia e l'altro è borghesia. Anzi, dopo possiamo anche tornare su questo argomento. Però io volevo prendere le mosse proprio da quello che ha detto lui e ovviamente riprendendo, perché qui c'era un accenno a una specie di antiletterarietà, scusa se mi permetto di tradurre in questo modo, perché in quel momento andava molto l'antiletterarietà, cioè una specie di rifiuto di un certo tipo di letteratura strutturata, programmata e così via, e forse anche di una certa immagine della famiglia che era stata trasmessa anche dalla letteratura precedente. Sono anni molto importanti, non soltanto sono state ricordate prima, sono stati ricordati dei titoli fondamentali che di solito vengono citati proprio a contrasto o a confronto con le scelte di Natalia Ginzburg, in particolare Il giardino dei Finzi Contini, che è del 1961, se ricordo bene. E poi ovviamente La cognizione del dolore di Gadda, che è del 1963, che quindi è coevo del lessico familiare, però è un libro che ha avuto una maturazione negli anni tra il 1938 e il 1941, che parla degli anni del fascismo, anche quello, naturalmente è la problematica che ne esce, però esce nel 1963, appunto. Premio Formentor, mi ricordo perché avevo conosciuto Gadda in quell'occasione, appunto, che mi ha anche donato un saggio di citati che parlava di lui, e Gadda era pienamente, come dire, in funzione in quel momento, anche se il libro era di prima. Però forse bisognerebbe tornare anche ancora indietro, va bene, bisognerebbe tornare ancora agli anni Quaranta, quella famosa cronaca familiare, ecco, di Vasco Pratolini, che porta l'aggettivo familiare, e lo stesso scritto con la L, anziché con la GL, eccetera, eccetera. Dicono che ci furono grandi dibattiti in case editrice sulla G. Ecco, appunto. E che potrebbe essere anche un elemento di... cioè è un elemento interessante per capire l'evoluzione delle cose, appunto. Tutto lirico, tutto elegiaco, tutto sentimentale. Pratolini, che del resto, quando poi parla di questo suo libro, dice che era una specie di atto di espiazione verso il fratello, eccetera, ma, insomma, comunque lo vede criticamente. Non è un caso che, nello stesso anno in cui esce cronaca familiare, esce anche la cronaca dei poveri amanti. Il doppio binario, si potrebbe dire degli affetti familiari da un lato e dall'altra parte, invece, la grande storia coniugata alla piccola storia in cui c'è l'antifascismo, c'è la violenza, insomma, di quegli anni, e così via. Nel 63, poi, c'è il precedente del Giardino dei Finzi Contini, 1961, che è un libro che parla di una certa borghesia ebraica. Anzi, io ricordo quegli anni, perché erano gli anni in cui facevo l'università e mi laureavo, e perché i miei amici ebrei, appunto, quando sono usciti questi due libri, prima il Giardino dei Finzi Contini e poi l'essico familiare, naturalmente, si sono buttati letteralmente su questi libri, perché erano libri che facevano la storia della famiglia. Attenzione, non dimentichiamo, perché c'è anche questo elemento di Natalia Levi, Ginzburg, appunto, perché il suo cognome è Levi, quindi un cognome, come dire, che rimanda a tutto qualcosa che sta dietro. Va bene, anche se poi la sua famiglia era molto complessa, perché il padre era ebreo, la madre no, eccetera, e c'è tutto questo elemento che viene fuori, anzi vorrei usare questo termine, che affiora da questo libro, perché questo libro non affronta dei capitoli specifici, delle partizioni per tutte queste cose, però le fa affiorare in questa specie di flusso continuo. Ecco quindi la scelta, diciamo, antiletteraria da questo punto di vista. Ma quindi bisognerebbe misurare questo libro anche sui libri precedenti, perché il Giardino dei Finzi Contini è in realtà un libro nostalgico, un libro che parla di un'isola felice e così via. L'essico familiare, due anni dopo, è qualcosa di completamente diverso. Appunto è quindi su questa diversità che bisognerebbe insistere. Poi c'è tutto il problema delle reazioni che vengono fuori all'apparire di questo libro, cioè grande entusiasmo del grande pubblico, ma anche reazioni in qualche caso anche un po' cattive da parte di una critica anche di persone di cui sono e sono stato amico e abbiamo molte idee in comune, ma su queste cose certamente non mi ritroverei. Ecco, proprio per quell'accusa che veniva mossa a Natalia Ginzburg di rappresentare, che era la stessa accusa che anche Moravia aveva mosso alle voci della sera, cioè un libro di due anni prima che parlava sempre della famiglia in cui c'è il gergo, c'è il dialetto, ci sono tutte queste componenti. Anzi, sarebbe interessante forse fare un discorso su come la Ginzburg si avvicina fin dall'inizio al tema della famiglia, fin da quando sulla Susolaria, lei aveva 17 anni, credo, nata nel 16, no, 1933 esce un racconto intitolato significativamente Bambini e i bambini sono un dato costitutivo della famiglia, anzi l'infanzia e il punto di vista dell'infanzia sono uno degli elementi caratteristici di questo libro. Però non vorrei perdermi in troppe cose perché, come dire, tutto questo meriterebbe una storia perché è un libro che non è che nasca dal nulla, nasce da una precisa consapevolezza, cioè ha un'aria casual, va bene come si direbbe oggi che si usano questi termini, però in realtà è un libro che nasce da una consapevolezza di una poetica molto precisa e anzi prima di questo libro, prima di leggere il libro chiunque lo prende in mano fa bene leggere e meditare sulle avvertenze che Natalia Ginzburg dà al lettore per dire che cosa il suo libro è e che cosa il suo libro non è. Per esempio, niente invenzione. Lei dice io sono una romanziera, la mia natura è quella della romanziera ma io ho voluto togliere tutto quello che poteva, come dire, riportare al gusto del romanziere di inventare. Quindi sono stata una romanziera dei fatti reali perché nel mio libro si parla di fatti reali. ci sono tutti personaggi che hanno un nome, un cognome e anche una storia, talvolta non raccontata, semplicemente accennata. E poi dice ma io ho raccontato solo quello che ricordo. Attenzione perché invece la biografia, se fosse una biografia familiare e notate bene che negli anni sessanta poi si comincia proprio a lavorare molto sulle biografie, le biografie familiari e così via, uno fa le sue ricerche d'archivio molto precise, le stesse che lei farà molti anni dopo quando scriverà la famiglia Manzoni nella stessa prospettiva del lessico familiare però con tutta una ricerca che è la ricerca erudita che lo storico deve fare per ricostruire gli epistolari e così via. E quindi questa è una scelta molto precisa perché lei dice solo quello che ricordo. quindi non è andata a scartabellare tra le carte della famiglia però ha usato puramente la memoria. Però invita a leggerlo come se fosse un romanzo. Quindi torna la romanziera ma la romanziera non dei fatti inventati ma dei fatti reali. per dire che poi lei non parlerà però di sé ma della sua famiglia e giustamente Bartezzaghi prima ha ricordato appunto il fatto che lei già da piccola aveva maturato l'idea di scrivere un qualcosa che parlasse dei personaggi dell'entourage del gruppo, del clan di tutta quella perché attenzione anche sul termine familiare bisognerebbe ragionare un po' perché la famiglia qui non è solo la famiglia ma è tutto una galassia un piccolo sistema potremmo dire di rapporti di relazioni umane sulle quali si fonda la vita sua che non parla di sé ma che parla di queste persone e dei rapporti tra queste persone. E vedete qui bisogna citare un'altra cosa scusate faccio il mestiere un po' che mi compete perché c'è un altro libro in mezzo tra quello che ho citato le voci della sera e il lessico familiare che si chiama Le piccole virtù che è un libro bellissimo che vi consiglio di leggere se non l'avete letto e dove c'è un capitolo intitolato I rapporti umani e vedete allora qui si parla di rapporti umani che è splendido veramente è una cosa importantissima perché racconta la storia senza nomi né cognomi racconta la storia di una persona diciamo uomo o donna dall'infanzia alla vecchiaia e lo fa partendo dal fatto che i bambini sono intimoriti incuriositi e respinti dagli adulti e poi si arriva all'adulto e al vecchio in cui il vecchio dovrà trattare i bambini dall'altra parte ricordandosi tutte queste cose ed è una specie di storia naturale dell'uomo attraverso i rapporti umani che è la stessa operazione che aveva fatto Saba nel 1929 quando apriva il numero speciale a lui dedicato di Solaria pubblicando un poemetto intitolato l'uomo in cui si dava il paradigma della vita dell'uomo un paradigma attenzione perché i rapporti umani è appunto il paradigma dell'umanità e allora continuo ancora con le avvertenze perché le avvertenze sono importantissime guardate bisogna sempre prendere sul serio lo scrittore magari per smentirlo e per dire come diceva Walter Binni una volta che da un lato c'è la poetica dichiarata da un altro lato ci sono i risultati però la poetica dichiarata va presa in considerazione perché lei dice che parlerà delle persone intorno a lei ma che non dirà tutto ma solo barlumi e schegge notate anche questi termini e quindi è curioso questo romanzo che è un romanzo della famiglia in cui non si parla di sé solo di quel che si ricorda e anche a tratti e poi aprite il libro il libro non ha dei capitoli perché è una continuazione ininterrotta dall'inizio alla fine che segue in maniera molto strana ma il corso del tempo perché certamente si parte dagli anni diciamo dagli anni del fascismo dai primi anni insomma dagli anni dell'infanzia per arrivare poi agli anni in cui lei si sposa e va ad abitare dopo la guerra appunto dopo che tutto è avvenuto il secondo matrimonio quando lei sposerà Gabriele Baldini che qui non è nominato ma a cui è dedicato il libro precedente e se ne va via da casa allora abbiamo questo flusso ininterrotto qui naturalmente il discorso potrebbe essere quello è stato già toccato il discorso di Proust ricordando che però Natalia Ginzburg dà una soluzione tutta sua a questa cosa in cui c'entrano tante altre cose allora giustamente Bartezzaghi diceva io adesso chiuderò perché dopo lui deve fare altre domande giustamente diceva prima appunto parlava di questa sorta di scelta non letteraria che invece come vediamo è una scelta letteraria camuffata da una scelta non letteraria che è una scelta che corrisponde al tipo di rappresentazione che lei vuol dare dell'universo familiare che è lo stesso che si trova anche in altre rappresentazioni della famiglia che lei dà tenendo sempre il discorso sotto tono io prima citavo la cronaca familiare ma la cronaca familiare oltre che un tono elegiaco poteva avere anche un tono sotto sotto sottintesamente epico va bene perché una rappresentazione che mette al centro se stesso al centro di un rapporto magari per negare se stesso per denunciare anche le proprie ingiustizie ecco lei proprio sceglie di non voler far questo sceglie di depotenziare in qualche modo questo discorso in cui al centro ci potrebbe essere l'io mettendo al centro queste altre persone e allora qui forse sarebbe interessante ma io mi limito a leggere proprio l'incipit e l'explicit di questo libro per vedere l'incipit è il papà a tavola come dire che mette a posto i figli che fanno sbrodighezzi porcherie e così via e qui c'è tutto un come dire uno sventagliamento di lessico familiare attenzione che però il termine lessico non si riferisce solo alle parole si riferisce anche alle facce al modo di essere al modo di relazionarsi con gli altri anche fisico appunto che è molto forte perché i personaggi vengono con una loro maschera tanto che alla fine potremmo dire li conosciamo come conosciamo anche certi personaggi della commedia dell'arte che hanno il loro sono un tipo ormai si presentano come un tipo e anche certi personaggi vengono ridotti a tipo funzionalmente a questo discorso in cui si vuol togliere ogni forma di sentimentalismo di quart'ordine e si vuole soprattutto mettere in luce la quotidianità anche la banalità da un certo punto di vista ma non è la banalità povera è una banalità che invece è ricca di sentimenti perché è un sistema di comunicazione un sistema di comunicazione e di riconoscimento dei personaggi dove tra l'altro e questo è un elemento secondo me molto importante il comico, l'umorismo gioca una sua precisa funzione e qui entra in campo proprio si potrebbe dire una delle qualità anche della scrittura di una letteratura praticata anche nel mondo ebraico in maniera particolare la caricatura, l'umorismo eccetera eccetera va bene, ricordo qui siamo nella patria di Michel Stetter che Michel Stetter faceva delle caricature faceva dei disegni e quando scrive i suoi scritti filosofici rappresenta il borghese con la nuca grossa eccetera che sembra di vedere una di quelle rappresentazioni di Georg Gross appunto cioè la rappresentazione della borghesia è una rappresentazione caricaturale il comico poi può essere usato in molti modi il comico di Natalia Ginzburg è un comico non corrosivo è un comico affettivo è più vicino agli ebrei ai racconti gli ebrei di Umberto Saba è vicino a quel Isaac Babel dei racconti di Odessa che proprio in quegli anni Calvino aveva preso l'armata a cavallo ma Babel era una presenza nelle letture di allora e poi era uscita un'antologia della prosa di Mondadori con uno splendido racconto di Babel sui bambini ebrei di Odessa sembra di leggere appunto questo cioè c'è qualcosa si potrebbe dire nella filigrana di questa prosa proprio che noi ritroviamo qui e che ritroviamo in altri grandi scrittori anche come Israel Zanguil citato anche in questo testo l'autore del famoso Il re degli Schnorrer che a suo tempo Giandauli aveva tradotto in una grandissima traduzione che purtroppo l'editoria italiana non ha più riproposto mi fermo qui per intanto ecco il professor Guagnini giustamente diceva dell'umorismo della leggerezza che è sempre tenuta molto però alla briglia diciamo io volevo chiedere una cosa a Bart Ezzaghi in occasione di questo incontro ho voluto rileggere un libro suo che io amamo molto che si intitola scrittori giocatori che è uscito per Einaudi dove Bart Ezzaghi appunto fa un viaggio nella letteratura mondiale non solo italiana partendo da Dante ma arrivando a Chenoa Nabokov Primo Levi insomma spazia su vari scrittori per dire che la letteratura e la cultura ha sempre avuto un po' paura del giocare del fatto che lo scrittore non sia serio non sia inappuntabile inappuntabile e invece lui fa tutto un percorso per dimostrare come anche all'interno di Dante ci sono giochi di parole volevo chiedergli questo ci sono alcuni passaggi nella Ginzburg sto pensando per esempio al ritratto del fratello Mario che continua a ripetere questa storpiatura di una volgarità che il baco del calo del malo che poi insomma se cambiate le lettere capite anche cosa vuol dire ecco c'è nella Ginzburg questa no forza giocosa diciamo sì io io non il libro che la gente le ha citare non ne parlo ne ho parlato però in un libro molto più recente di citare la parola in gioco che è proprio una tentativa di analisi di cosa sia il gioco linguistico perché è una categoria già la categoria del gioco è difficilissima da 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 definire da cogliere quella del gioco linguistico molto spesso insomma siamo portati per ragioni ragionevoli a a confondere il gioco con lo scherzo no e ma non sempre se voi avete mai visto un bambino giocare non è mai certo nessuno è così serio come un bambino che sta che sta giocando e quello quindi cosa si intende per gioco di parole e lì cito proprio cito proprio l'incipit di lessico familiare per dire allora sicuramente l'invenzione delle lingue l'invenzione dei neologismi appunto le parole inventate e anche le lingue inventate no arrivando fino all'idioma di Johan Padana di Dario Fo o al Gram Law che addirittura non è neanche più una vera lingua sicuramente esprimono un tipo di di gioco linguistico ma nel caso di parole che fanno anche ridere come appunto sbrodeghezzi che vabbè poi non sarà capisco che qui lo si usa anch'io non fare potacci eh sì io non mi ricordo la mamma di una amica padovana diceva potaccio non mi ricordo se intendeva un brodo venuto male una roba non so era qualcosa di alimentare non ho un ricordo vago però l'avevo sentito nel Grigure no non l'avevo mai sentito e però almeno da come ce lo racconta lei non nel caso del baco nel caso del malo eh il padre non sta scherzando quando usa queste parole le sta usando davvero facevano parte dell'essico familiare nel senso che lui effettivamente anche probabilmente quando era inquietato arrabbiato magari un pochettino in maniera eh teatrale però diceva quelle cose e si capivano benissimo quindi appunto è un gioco rispetto alla lingua italiana ma non è un gioco rispetto al l'essico familiare interno e in quel saggio Garboli dice che uno dei dei critici che volevano un po' eh diciamo snobbare no pensando io quando parlavo di antiletteralità parlavo di una posizione consapevole no non di un tentativo di una poetica e eh cercando di di snobbare prendendo sul serio l'antintellettualismo il raghinismo dice per esempio questo padre che dice negro negrigure non tiene conto che non si tiene conto che nel linguaggio degli ebrei cioè ci sono proprio dei Paolo Milano Paolo Milano era ehm ci sono proprio delle testimonianze sul fatto che la figura del negro anche nella comicità ebraica è la figura del lui dice charlot no del di quello che si comporta in maniera goffa peraltro qualcuno si è anche chiesto ma oggi si potrebbe usare una cosa come negrigure il negro è diventato politicamente scorretto un tabù linguistico e questo è molto c'è una cosa molto divertente non c'entra molto scusate mi faccio una digressione ma ehm il piccolo teatro a un certo punto ha pubblicato una raccolta di lettere di Paolo Grassi uno dei suoi fondatori assieme a Streller e ehm mi è capitato in mano questo libro e l'ho leggiucchiato così per avere squarci di e sono stato premiato perché a un certo punto Paolo Grassi negli anni settanta sovrintendente alla Scala scrive al direttore artistico della Scala dicendo ehm caro ehm abbiamo in programmazione il trovatore di Verdi nella rappresentazione del 16 ottobre ehm ehm ospiteremo molti dei membri della conferenza dei sindaci delle città di tutto il mondo che si tiene appunto a Milano tra questi sindaci molti ehm di questi amici sindaci sono negri e allora quel versetto in cui l'opera dice mi pare lo sporco sangue dei negri l'aggettivo sporco potrebbe offenderli no? a questi nostri amici negri era ovviamente io mi ricordo benissimo ehm poi io sono milanese niger vuol dire nero no? il vin niger vuol dire nero non vuol dire negro dato che poi da ragazzo ero molto appassionato di jazz mi ricordo che quando negro non era ancora una parola ehm proibita casa mia girava ovviamente un po' di settimane enigmistica la settimane enigmistica veniva usata non era stata ancora non si sentiva ancora questo io già non la usavo più e dicevo a mio padre mi chiedete di usarlo perché negli Stati Uniti niger è un insulto sanguinoso e si dice black e attraverso è un anglismo dire nero o al posto di di negro è un'evoluzione della lingua e del costume e non intendo assolutamente contestarla però ecco appunto tornando al all'essico familiare una cosa come le negrigure era una specie di gioco di parole sì e no c'era evidentemente comunque ma è comunque una forma di gioco perché sempre parlando del gruppo 63 a me ci sono vabbè due cose che entrano in relazione in una relazione strana perché uno scrittore abbastanza lontano da Natalia Ginzburg ha scritto una poesia nel 72 che dice così ho insegnato ai miei figli che mio padre è stato un uomo straordinario potranno raccontarlo così a qualcuno volendo nel tempo e poi che tutti gli uomini sono straordinari e che di un uomo sopravvivono non so ma dieci frasi forse mettendo tutto insieme i tic i detti memorabili i lapsus e questi sono i casi fortunati questa è una poesia che Edoardo Sanguinetti ha scritto ai figli in memoria del padre che era appena che era appena morto e c'è questa anche qui questa idea che è appunto nella lontananza sicuramente tra due scrittori così della frase che è poi ciò che resta forse appunto giustamente è un lessico che poi è fatto anche di espressioni è fatto anche di contenuti in un certo modo di segmentare il contenuto di certe cose che non è tanto lo stereotipo linguistico le parole esatte con cui vengono ripetute ma è la mentalità che ci sta dietro che fa da luogo comune ma è un luogo comune familiare che quindi è banale per quel ban per quel villaggio che però la famiglia e casomai appunto il sistema di relazioni lì attorno e poi c'è la ricostruzione della memoria anch'io mi ero segnato le avvertenze lei diceva la memoria è labile e questa cosa dell'abilità della memoria a me pare sempre un po' una forma mascherata no? perché per esempio c'è un brano che a me ha fulminato alla rilettura che ne ho fatto per venire qua che quando lei da bambina viene mandata in ospedale per un'operazione e dice mia madre perché l'ospedale non mi facesse impressione mia madre mi aveva dato da intendere che l'ospedale era la casa del dottore e che gli altri malati nelle stanze erano tutti figli cugini e nipoti del dottore io per obbedienza credetti e tuttavia nello stesso tempo sapevo che si trattava di un ospedale e quella volta come anche più tardi la verità e la menzogna si mescolarono in me e qui è proprio è una fine veramente quasi rabbinica questa no? l'idea della verità e la menzogna ma sono verità e menzogna io adesso ho visto un po' di erba verde qui in giro quindi non sarò esplicito però da bambino mi ricordo di cose anche abbastanza rilevanti nella vita di un bambino in cui io avevo esattamente la coscienza cioè credevo e sapevo che non era vero e le due cose non pensavo i miei genitori mi stessero mentendo no? è la dinamica del gioco poi per tornare al gioco il Blanchot diceva quando se uno va da un bambino a dirgli che quella è il manico di scopa non è un cavallo non è che gli sta rompendo l'illusione sta inserendo un elemento di pesantezza in qualcosa che è per costituzione leggero detto un po' prima della conferenza mancata di Calvino sulla leggerezza e il bambino lo sa benissimo cioè la risposta del bambino è sempre mutamente ma sei cretino cioè certo che lo so che non è un cavallo io sto giocando a cavallo non è nella verità e nella menzogna è un piano di verità diversa in Homo Ludens Oisinga dice sul rapporto tra verità tra realtà e finzione e gioco si potrebbero dire tante cose però la cosa più significativa a me pare è quello che è successo al mio amico che è tornato a casa è andato a salutare il bambino che aveva 4 anni stava giocando in camera sua è entrato in camera e questo bambino aveva fatto tutta una fila di sedie era seduto sulla prima e faceva ciuff ciuff e allora lui è andato e ha abbracciato il bambino per salutarlo e il bambino gli ha detto papà non devi baciare la locomotiva perché sennò i vagoni non pensano che sia una cosa seria secondo me questa cosa venderebbe in crisi un dipartimento di logica formale per cercare di formalizzare questa cosa ecco non dobbiamo essere stupidamente legati alla logica quando parliamo di di gioco c'è un continuo entrare e uscire ed è anche un entrare e uscire quando la materia è la materia una materia vissuta non è una materia di invenzione ed è questa la frontiera che in questo momento poi è diventata assolutamente interessante una cosa che mi ha ricordato queste parole sulla verità sulla menzogna le parole sui libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi e schegge è un testo anche questo lontanissimo per generazione anche da e da uno che sicuramente non aveva letto che era David Foster Wallace lo scrittore David Foster Wallace morto nel 2008 l'ultimo testo che ha pubblicato lui in vita poi sono usciti dei testi postumi era una prefazione a un'antologia negli Stati Uniti vanno delle antologie che vengono fatte come degli almanacchi ogni anno i migliori racconti un editore e chiede a un curatore volta per volta e lui quell'anno gli avevano dato a curare la non fiction e questa la prefazione il saggio in cui lui ha spiegato le sue scelte è l'ultima cosa che lui abbia licenziato per la pubblicazione e qui lui dice essendo stato un grande scrittore almeno a mio parere ma non soltanto mio sia di fiction che di non fiction lui dice la differenza non è cioè in entrambi i casi la posizione dello scrittore è la stessa sta camminando su una corda tesa su un abisso la differenza è l'abisso e cosa sta nell'abisso cioè nel caso della non fiction lui dice da lì sotto vengono i subbugli statici di ogni cosa e esperienza particolare la propria libertà totale di scegliere all'infinito cosa considerare e rappresentare e connettere e come e perché eccetera nel caso invece della fiction da questo abisso lui dice viene fiction abyss is silence nada lo dice in spagnolo è silenzio non c'è niente quando uno sta inventando da sotto non arriva nulla quando invece sta parlando di una e anche qui appunto c'è una grotta buia di voci che dicono ma ti ricordi quella volta parla di me parla di me e bisogna il racconto anche se è un racconto che non inventerà nulla non inventerà nel nostro senso banale ma nel senso dell'invenzio nel senso del rinvenire rinviene delle cose e non le può rinvenire tutte no? ci sono delle cose che sono fissate nella memoria già in forma di racconto certe cose noi ce le ricordiamo ci ricordiamo più i racconti che ne abbiamo fatto il modo in cui la raccontiamo a noi stessi a volte capita no? di incontrare un parente un amico un vecchio amico dei vecchi tempi che racconta un aneddoto in un modo completamente diverso da come ce lo ricordiamo noi in un modo sarà andata non sto contestando l'ontologia però ci sarà un modo in cui è andata ma in realtà nella memoria quella cosa che vediamo no? quando guardiamo gli orti in mezzo ai nuvoli neri riusciamo a ritrovare delle cose sulle cose che abbiamo sempre ritrovate assi lì ci dovrebbe essere il mio orto e questo fa appunto anche di un racconto di memoria fa un romanzo soprattutto quando e in questo lei in alcune dichiarazioni è esplicita non desidera fare la storia di quello che è successo certo non desidera la ricostruzione la ricostruzione si fa con gli archivi si fa con gli archivi non si fa a memoria ma evidentemente era il gioco tra lei bambina lei adulta il modo di vedere il mondo degli adulti il modo in cui il mondo degli adulti vedeva lei bambina e via dicendo dei suoi figli praticamente non ci parla mai perché il romanzo è un romanzo sul padre che diventa progressivamente un romanzo sulla madre le due figure dominanti un po' cambiano cambiano ruolo ed è penso giusto leggerlo così ed è anche il motivo perché è tutt'oggi lo dico per esperienza un romanzo una lettura adorata dai 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 giovani lettori che hanno smesso si affacciano dalla letteratura specificamente pensata per loro alla letteratura maggiore penso che chi di voi faccia l'insegnante abbia spero che abbia esperienze di cui ho sentito parlare ho visto anche nella nella mia famiglia continua ad essere un libro che cattura ecco proprio grazie quest'ultimo passaggio del discorso di Barte Zaghi mi dà l'opportunità anche perché poi dobbiamo sentire se ci sono delle domande dal web di farvi una domanda incrociata ed è questa io volevo chiedere a Guagnini questa cosa abbiamo detto prima che in quell'anno allo Strega si scontrano Tommaso Landolfi che arriva secondo con se non ricordo male Demois se non ricordo male Demois che è un libro straordinario secondo me e Natalia Ginsworth con l'Essicua Familiare e vince la Ginsworth e dimenticavo la tregua di Primo Levi sì 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 no no ma io mi fermo a questi due per la lingua diciamo sono due libri che chi li ha letti insomma chi li conosce un po' sa che dal punto di vista linguistico sono rivoluzionari nel senso che Landolfi da una parte con un recupero di una lingua ormai arcaica se vogliamo però con un recupero anche di termini regionalistici toscano-laziali perché lui era nato a Pico Farnese quindi abitava un po' un po' di qua un po' di là poi era spesso anche a Sanremo per motivi di gioco quello che volevo chiedere a Guagnini è questo possiamo dire oggi guardando che è stato un momento straordinario dal punto di vista della sperimentazione linguistica anche e a Bartezzaaghi chiederò questo lui ha detto giustamente che l'Essico Familiare è un libro che può piacere moltissimo ai giovani d'oggi quanto quel linguaggio di l'Essico Familiare soprattutto i tormentoni che è un tema del suo libro nuovo Banalità quanto di quel linguaggio potrebbe funzionare ve lo devo mostrare perché è una pagina che mi ha fatto ridere per tre quarti d'ora credo che Bartezzaaghi riproduce nel suo libro dove c'è un tentativo adesso mi ricordo più mi fa sembrare che forse verso la fine di Natale quel tentativo sì no all'inizio quel tentativo di riraccontare diciamo la natività la natività sacra diciamo con linguaggio internetologo con linguaggio da Twitter più da Facebook forse in questo caso è una pagina io vi consiglio di comprare il libro di Bartezzaaghi non solo perché però aveva un fotocopio sei solo per quello riderete per tre quarti d'ora soltanto per questo ovviamente il libro è anche molto serio ecco la pagina è questa io purtroppo non posso leggervela tutta perché non abbiamo il tempo però è veramente straordinaria ecco quanto i tormentoni della Ginzburg potremmo ovviamente tirandoli proprio per i capelli considerarli anche una premonizione di quelli che sono diventati poi i tormentoni del web insomma in qualche modo beh in ordine beh volevi sapere scusa un momento tanto per tornare alla domanda che mi avevi fatto no e a te chiedevo appunto della rivoluzione linguistica cioè quanto è stato un momento dal punto di vista linguistico veramente seminale insomma beh è un libro che rompe con una certa tradizione del resto prima io non a caso volevo riferirmi alla cronaca familiare ma dico poteva essere un discorso molto più lungo e poi e poi c'era Gadda naturalmente che arrivava nello stesso anno con la cognizione del dolore che fa invece che presenta un libro dove come dire l'elemento linguistico è esibito è messo in primo piano diventa un fatto quasi esplosivo mentre qui invece ci troviamo quasi sotto tono anzi adesso guardiamo un momentino un'introduzione che Calvino aveva fatto per presentare le voci della sera al premio strega non so che premio appunto poi pubblicato sull'Europa letteraria dove parla proprio come dire di questo linguaggio come qualcosa di mimetico rispetto al linguaggio ma dice ma non è una registrazione da magnetofono realistico è qualcosa di profondamente diverso ecco è questo che dovremmo cercare di capire ed è forse Calvino ha detto molto bene che che poi questo tipo di registrazione del lessico familiare in tutte le sue forme e con tutta questa sua complessità perché non sono solo le parole ma è un'atmosfera cioè voleva in fondo dare un'atmosfera restituire un clima anche un clima di quel mondo borghese che veniva tanto accusato da altre parti insomma certo è un mondo borghese con tutti i suoi snobismi gli snobismi certe volte sono anche una forma di autodifesa sociale come dire per poter come dire tenere insieme un ambiente per potersi riconoscere certe battute delle signore che frequentano la casa tanzi levi eh che naturalmente Natalia Levi Ginzburg riproduce e qui bisognerebbe però introdurre anche un altro elemento ho letto proprio in vista di questo incontro mi sono riletto un po' di voci della Ginzburg dei vari dizionari letterari in una appunto si parla di spietatezza di durezza nei confronti del proprio ambiente ecco io su questo non sarei d'accordo assolutamente proprio per quello che dicevo all'inizio di questo elemento del comico e dell'umoristico appunto che c'è fin dall'inizio fin dalla prima pagina col padre che dispensa le sue le sue battute ai ragazzi che fanno sbrodichezzi e così via in tavola dove come dire viene fuori subito un elemento come dire da un lato di Natalia Ginzburg che mette una distanza tra sé e questo mondo attraverso l'ironia dall'altra parte però questa ironia ha sempre come dire spesso un'intonazione quasi sempre un'intonazione quando parla soprattutto dei membri della propria famiglia un'intonazione anche molto affettuosa come dire di grande vicinanza c'è anche attenzione perché poi questo libro è molto importante anche nella riproduzione dei pregiudizi dell'ambiente anche su questo cioè il lessico serve anche a identificare i pregiudizi che possono essere pregiudizi che hanno anche dei risvolti negativi ma che lei come dire cerca di riprodurre per cercare di capire però al fondo come dire come tutta questa cosa non aveva un grande una grande forza come il negro o la negrigura eccetera di cui si diceva prima per cui Paolo Milano aveva detto ma si usa nel mondo ebraico come dire per dire una persona come a Stolfo nell'Orlando Furioso che cade da cavallo c'è una persona imbranata dico che non sa muoversi Chaplin no? d'altra parte come dire l'uomo nero non necessariamente è il negro o più come si dovrebbe dire il nero ma era anche l'uomo che viene dalla notte lo spazzacamino l'uomo che incute paura il buio non so è una cosa forse questo lo giro a lui che potrebbe dire qualcosa di più perché noi per esempio anche nel dialetto triestino parliamo del negron eccetera per parlare di una certa lingua di basso livello ma dico dove i negri non c'entrano per niente insomma assolutamente c'è un modo di dire come diceva Paolo Milano e tuttavia come dire questo libro è un libro che attraverso il linguaggio anche identifica alcuni pregiudizi per smontarli per vederne non solo l'inconsistenza ma anche per vederne qualche volta come dire un qualcosa che si smonta facilmente perché basta conoscere le persone il pregiudizio sparisce per esempio quel discorso sugli aschenaziti e i sefarditi degli ebrei che Natalia fa quando il padre conosce Leone Ginzburg e dice ah è brutto come eccetera io invece sono bello perché non sono aschenazita ma sono sefardita eccetera balle naturalmente perché poi quando avviene l'incontro tra le persone tutte queste cose si sciolgono come neve al sole è un messaggio molto interessante che viene da questo libro così come il pregiudizio anche di carattere politico e lì è molto interessante perché è il giudizio che per esempio quelli di giustizia e libertà danno su un certo mondo comunista o il giudizio che i giovani comunisti daranno negli ex PDA partito d'azione che vengono scusate che vengono visti come degli intellettuali borghesi snob eccetera eccetera da tenere lontani ma loro stessi come dire vengono poi da questo mondo ecco mi fermerei scusate solo che chiedo domande dal web sì ci sono sì allora facciamo rispondere solo un attimo a Bartezzaghi e poi sentiamo le domande dal web no sì la cosa dei dei tormentoni è anche lì e dimostra quanto veramente frettolose furono le letture appunto snobili perché poi l'uso di snob no? è bidirezionale perché lo snob è quello che snobba gli altri ma è lo snobbato anche etimologicamente uno si diventa poi lo sono cose che sempre si ribaltano l'uno con l'altro ed è appunto certamente nella mia indagine sui luoghi comuni sulla loro trasmissione attuale attraverso i social network si vede molto chiaramente come siano lotte tra stereotipi eh diversi quelli che si ed è anche giusto una società letteraria vivace eh ci sono libri che gettano il sasso nello stagno e creano delle ehm così rifrazioni non trascurerei prima mi sono dimenticato colpevolmente la tregua di di primo levi arrivato al terzo posto allo strega vabbè i premi sappiamo comunque eh anche quello dal punto di vista del 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 linguaggio eh la curizzetta cioè il i linguaggi che si mescolano il romano che il greco ci sono appunto tutte queste queste dimensioni di una rappresentazione che diventa veramente a quel punto espressionistica della 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 realtà e ecco l'uso che poi lei fa nel romanzo di queste cose di cui dà un primo paradigma all'inizio mette subito assieme cinque o sei di questi detti paterni e poi incomincia a parlare incomincia a parlare la nonna milanese si ricorda soltanto sono rimaste soltanto tre frasi di questa nonna eh milanese e Turati è venuto non mi ricordo neanche una frase di quella che ha detto di quello che ha detto Turati ogni personaggio viene caratterizzato e poi queste cose tornano tornano in tutto il libro fino al tipico tormentone antitormentone nel padre dice ah chissà quante volte ho sentito già queste storie no? perché la mamma non non resisteva quando passava nei dintorni di un aneddoto il barbison lo zio demente doveva riraccontare le cose il padre non gliele faceva riraccontare allora lei le raccontava al più vicino perché proprio diceva ma si dai lo sai però facciamo che non lo sai come i bambini che vogliono sempre gli stessi indovinelli la soluzione la sai già però evidentemente il gioco è un altro e lei costruisce con una sapienza assolutamente lì sì da grande dialoghista da grande commediografa in modo in cui nei diversi atti diciamo così virtuali perché non ci sono divisioni ritornano queste cose l'enigma non svelato fino in fondo del bacco del caldo del malo per esempio è è una cosa che è veramente messa in un modo sapiente con proprio della una specie di suspense non dichiarata perché c'è questo ragazzo che dice il bacco del caldo del malo lo dice un paio di volte come se fosse abracadabra sim salabim la formula magica e poi a un certo punto procede il paradigma in cominciare a dire il becco del chielo del malo e lì al lettore più scaltro diciamo se sono proprio uno arriva fino a quello che Gad avrebbe chiamato lo incredibile a prodo ecco questo è un modo non soltanto per mettere le cose ecco diciamo queste cose e poi giù a ridere come farebbe un narratore diciamo meno attrezzato ma proprio una una costruzione di questi materiali che sembrano poveri ma poi appunto niente è banale visto da vicino e che nella confronto con l'occasione col contesto la circostanza mutevole cambiata con l'età le circostanze storiche le fortune le sfortune economiche della famiglia la possibile oppressione e il fiato sul collo diciamo della della storia rivelano ogni volta ha un significato diverso perché noi non possiamo qui vi spoilerò la fine del mio libro non possiamo pensare di essere di poter essere originali del tutto non possiamo pensare di non essere banali ma non dobbiamo neanche temere di essere banali del tutto perché appunto nessuno è banale visto da vicino quello che conta è anche ripetere delle cose di non non inaudite non inedite in una nuova circostanza prendono un nuovo significato gli si imprimono un nuovo significato e l'importante è averne consapevolezza ecco in questo libro credo che poi la cosa veramente più importante da dire l'unica avvertenza a dare al lettore è dire questo libro è stato scritto sicuramente con una grande consapevolezza non pensate che la scivolatura sintattica sia perché non scriveva bene come altri no è consapevole quanto gadda e forse chissà anche di più ecco adesso sentiamo le domande sono uno studente delle superiori volevo chiedere perché gli autori contemporanei per lo più non vengono neanche citati a scuola si tratta pur sempre di autori che hanno cambiato il panorama della prosa italiana come nel caso della Ginzburg e del suo lessico familiare grazie a chi? non so chi di voi vuole rispondere siete liberi di altri autori? autori contemporanei non nel senso di Ginzburg ma nel senso di di oggi? sapevo ce ne sono altre o così magari le vediamo vediamole tutto ok allora io una cosa la posso dire perché io che non insegno appunto letteratura ma ho dei corsi uno di semiotica e l'altro su linguaggi della creatività le mie cotitolari e assistenti che sono un po' più giovani di me alcune molto più giovani di me ormai si fa presto essere più giovani di me a un certo punto dobbiamo rifare questi corsi dobbiamo fare i programmi e hanno buttato lì garbatamente un'osservazione dico guarda però sai cosa fai troppi esempi letterari allora io non è non non mi attento di dire appunto come voi sapete David Foster Wallace a pagina 695 di Infili Jest no dico c'è stato al mondo uno scrittore abbastanza importante che si chiamava Wallace spiego cerco di anche perché è anche un tentativo di far vedere che la letteratura ha un'importanza e allora al nostro giovane seguace che ci fa questa domanda la risposta che do io è che non si riscontra io parlo di università quindi non c'è un obbligo non c'è non si riscontra affatto un interesse nei confronti della letteratura per lo più e il tentativo io non ho represso duramente questa osservazione che mi hanno fatto con titolari e assistenti proseguirò su questa strada perché secondo me il problema è riuscire a far capire e so che qualcosa posso fare forse meglio di come ci abbia mai tentato di far capire che la letteratura serve no cioè dice dice qualcosa parla di esperienze che qualcuno ha provato prima di noi esperienze su cui noi possiamo parametrare le nostre e tutte queste cose non è un invito a lettura nel senso di appunto di dire leggete di più ma è dire al mondo ci sono anche queste cose la mia università di comunicazione volta al marketing secondo me è un uomo che fa una donna che fa marketing e che abbia letto lessico familiare abbia accolto un aspetto di lessico familiare lo farà meglio di qualcun'altra ma appunto perché invece nella scuola superiore non si arrivi a fare a fare letteratura contemporanea proprio sugli autori in attività oggi penso che ci sia proprio un problema di che sono tanti non c'è un canone nessuno decide quali sono i migliori c'è un problema di aggiornamento dei 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 docenti e su quello insomma poi vorrei suggerire a tutti i ragazzi e le ragazze potete anche fare da soli potete anche essere voi a stimolare diciamo questo rapporto anche in classe grazie c'è qualche domanda dal pubblico sì sì ti faccio rispondere no no volevo aggiungere qualcosa ma non tanto per no volevo sentire se c'era ancora qualcuno perché abbiamo pochissimi minuti per cui dopo ti faccio assolutamente rispondere perché se siamo tranquilli che non avete domande possiamo andare fino alla fine senza no ok allora dai vai Elvio no è mi è venuto un po' mi è venuto un momento di riso mentre ascoltavo quella prima domanda perché questa mattina è riaffiorato sapete a casa noi abbiamo pile di carte eccetera che mettiamo da parte diciamo un giorno leggerò rileggerò questo articolo eccetera oggi è riemerso un articolo di uno dei tanti giornali da cui come dire supplementi letterari da cui strappo la pagina perché in attesa di metterle in una in un'altra cartella in cui si dice che gli scrittori italiani che parlo di scrittori qui non so se la domanda era scrittrici o scrittori no assolutamente ecco no ci sono naturalmente ma pensavo questo foglio che è venuto fuori questa mattina proprio da questa pila in cui si diceva che gli scrittori italiani non sono scrittori da Nobel a parte il fatto che il Nobel adesso non si sa bene cosa sarà va bene però era un titolo molto duro appunto io l'ho messo da parte proprio su questo perché era una specie di stroncatura generale della situazione letteraria di oggi ed è un tema attenzione io ve lo sottopongo proprio perché lo trovate sotto sotto in tanti articoli di bilancio in cui si dice ah come era eccetera eccetera io non sono un lodatore del tempo passato va bene penso che ci sono dei bei libri guardate ieri sera sono tornato a casa da Rapallo dove al premio Rapallo per il premio Rapallo mi sono dovuto leggere 80 romanzi di scrittrici italiane appunto no perché arrivano e non libri attenzione cioè ve lo dico non libri pubblicati da cause editrici che pubblicano le auto edizioni a pagamento no tutte grandi case editrici i numeri dei libri che vengono pubblicati attualmente sono enormi appunto forse rispetto a questa stagione di cui abbiamo parlato oggi del 1963 come dire sì c'erano tanti libri eh c'erano tanti libri però ne venivano fuori alcuni subito in qualche modo che ci si presentavano in maniera decisa oggi forse si stenta forse perché il mercato del libro è diventata una cosa difficilmente praticabile se uno vuol seguire tutto e qualcuno dice ma tu che fai il professore di letteratura italiana a parte il fatto che io sono professore di letteratura generale cioè dalle origini in poi eccetera ma il contemporaneista appunto se gli chiedono ma tu leggi tutto o dice una bugia oppure deve dire mi limito a leggere ad alcune cose però vi assicuro che degli scrittori buoni ci sono insomma appunto non a caso appunto poi ieri c'è stata una discussione in cui c'era una decina di scrittrici come dire in ballo da cui abbiamo dovuto tirarne fuori tirarne fuori alcune per una terna che poi i lettori dovranno giudicare un altro discorso che si potrebbe fare è che oggi questo discorso non vale più soltanto per la letteratura italiana oggi come dire la nostra attenzione deve contemporaneamente essere rivolta agli scrittori di tutto il mondo allora il discorso è ancora più difficile naturalmente perché seguire qualcosa del genere però ci sono delle grandissime scrittrici e ci sono i grandi dei grandissimi scrittori Cuzzia mi veniva in mente adesso per esempio che io consiglierei di cui consiglierei la lettura anche nelle scuole anche se sono contemporaneissimi attenzione ma oggi già la scuola si è spostata verso la contemporaneità quando io facevo il liceo il contemporaneo era bene che andasse era pirandello eh si arrivava ad annunzio e poi ci si affacciava a qualcosa che veniva dopo e poi c'è stata invece una grande rivoluzione anche nell'insegnamento della letteratura naturalmente oggi chi studia una letteratura deve contemporaneamente essere anche un comparatista perché non ha senso più giudicare uno scrittore di un paese se non alla luce di questo e allora vi assicuro che gli scrittori ci sono e come bene grazie mille a tutti voi dell'attenzione grazie ai nostri ospiti e buona serata grazie mille grazie a tutti